BILIARDO QUATTRO RECUPERA BENE Belluomo 71 Belluomo 53 Guerini BILIARDO RECUPERA BENE Belluomo Giampietro E Amodeo Giacomo Coppia degli squali del CSB Dopolavoro Salvi e Giglio Capitano E Caccavalle Caccavalle Fiorenzo Il punto rimane Sul BILIARDO 4 rimane il punto A A Belluomo Dà la quarta Palla La gioca con eccessiva prudenza Solo un punto 73 Belluomo 53 Guerini Possibilità Per Belluomo Di fare partita La gioca con eccessiva prudenza BILIARDO 3 Sta provando Amodeo Giacomo Del Bar Sandri 2 Gioca con troppo scioltezza Belluomo Sciupa Una palla Nel frattempo BILIARDO 3 A inizio Il primo Incontro di coppia Alla bocciata Amodeo Giacomo Amodeo Giacomo Amodeo Giacomo Dopo la misura del punto Il risponso Assegna il punto A Guerini Tocca giocare La quarta palla A Belluomo Cerardo BILIARDO 3 BILIARDO 3 BILIARDO 3 Possibilità Per Guerini Di fare 10 punti Non c'è bisogno Neanche di giocarle Tre palle rimanenti 63 Guerini 73 Dell'uomo Nel giro Bocciata Perfetta Perfetta Guerini 12 punti 75 Guerini 73 Belluomo Nel giro Di due giocate Il risultato Si è capovolto Gioco Gioca bene Guerini Fa il punto Seconda palla Sta per essere data Da Belluomo La traiettoria Non lascia prevedere Nulla di buono Infatti La palla Dell'avversario Si avvicina Ancora più Al pallino Un'altra Biglia Multisponde Di Gerardo Belluomo Un altro errore Gioca il tutto Per tutto Belluomo Affidandosi A un tiro Di calcio Ma Spaglia Completamente Due biglie A disposizione Per Guerini Ma con la giocata Di banco Molto Precaria Pertanto Guerini No Ha cercato Di avvicinare La biglia Avversaria Per prepararla A un tiro Di calcio Adesso Tenta Di giocare Frontalmente Buona L'esecuzione Due Verilli Quattro punti Quattro punti In totale Settantanove Guerini Settantatré Galeone Galeone Un virillo Per Guerini Per fare partita Sbaglia La letta Come si suol dire Possibilità Possibilità Per Galeone Di recuperare In estremici Con un pizzico di fortuna Ma forse Ma forse anche con un po' di intelligenza Guerini Realizza il punto di banco Risponde bene Belluomo Gerardo Certo Solo un punto Necessario A Guerini Per fare partita 8 punti In realtà Dell'uomo Di arrivare Primo Al risultato Adesso vediamo Importante per Guerini Questa quarta palla In qualche modo Doveri di fare il punto Ma lascia Abbastanza spazio A Gerardo Per Recuperare Il pallino Di bocciata Non è permesso Sbagliare A Gerardo Ma Belluomo Due palle Sicure La terza palla È da misurare Quindi Sul 79 pari Boccia Belluomo Settantanove Belluomo E Gerardo Della squadra Gli squali Settantanove Uerino Massimiliano Del Sandri 2 Basta Un vinilo A Belluomo Per fare partita Belluomo Non sbaglia Non sciupa L'opportunità Che gli ha Dato Ieri Con l'errore Commesso Prima Non avendo Non avendo fatto Un birillo Di bocciata Inizia La E' secondo Incontro Di coppia Sommigliardo 4 Impegnati Verini Massimiliano E Rotta Legidio Per Baris Andre 2 Galeone Paolo No C'è stato Un cambio Quindi Impegnati Belluomo Gerardo E Petraccia Giovanni Finiamo Per questa sera Con l'errore Di bocciata Di prova Di rotta E Giglio